Grazie finalmente dopo un mese che non ci vedevamo più su youtube sono tornato con nuovi video, nuovi contenuti Spero che vi piaceranno Oggi vi porto un nuovo gioco che si chiama WarMod, è un free to play su steam Allora Ok, è un gioco FPS, come vi ripeto free to play, quindi è gratuito su steam Ecco, tutte le volte che entro in partita devo guardare gli altri ciò qua Ok, intanto vi racconto un po' perché sono stato fermo un mese Un po' perché sono stato malato, un po' perché sono andato in vacanza Un po' perché non avevo più voglia di fare i video su youtube perché vedevo che il canale non cresceva Poi ho detto, ma proviamo a fare, a ricominciare, a essere un po' più superanti Ok, ora è dentro, fa un po' 3 secondi, ok Ho detto, proviamo un po' a cambiare tipo lo cd video, giochi Così Per essere un po' più simpatico, anche più visualizzato Ma speriamo bene, io ora L'ho voluto portare a questo nuovo gioco Ah, ecco, ma non ci ha ammazzato, porca Ah, io sono dei mercenari E questo E sono contro la squadra 2 Cioè, noi siamo i rossi E i nemici sono i 2, cioè la squadra speciale E non mi ricordo la mercenaria Ok Non volevo fare più video su youtube perché come vi ripeto non ero più sicuro del canale Cioè di... Però dopo ho visto un po' gli incoraggiamenti, allora ho detto via Poi ho detto... Ho fatto un po' più di amicizie Ho detto anche loro del mio canale Speriamo che, insomma Che io cambia un po' Diventa un po' più simpatico E che faccia il video meglio E che vi piacciono soprattutto E che vi scriviate, insomma Così Ecco Sono già morto 2 volte nel cielo di 3 secondi La po', eh Si inizia bene Madonna Adesso lì c'è l'RPC Ma che cazzo dico l'RPC? C'ha... Il mitraglione che c'è su Far Cry Ma non mi ricordo bene Oddio No ma... Ma qui siamo matti veramente Cioè erano tutti mancati Cioè erano tutti in aria Ma cosa? Aspetta come si compravano le armi? Eh, non mi ero imparato Ma forse quando sono morto è vero Oh! No! Da dove è saltato fuori il mio acappoli? Non nemmeno ho comprato Da dove è saltato fuori? Boh Non lo so ragazzi Sto morendo un sacco di volte Porca miseria, eh Eh Non va bene Sto qui si è mangiato la granata lì Proprio vicino Dai ragazzi però Ok ma devo stare sempre qui Warcorp to win B più N Oh c'è scritto così eh Ok Compriamo Compriamo Quante Porta e una mitraglietta Cioè se una mitraglietta in verità Ok Ora guardiamo come ce la cambiamo Tanta forti Ok Merso wino Ok abbiamo vinto Merso turno Ok Ho sempre la stessa arma Bene Ok Ora rientro in partita Oh Ok Ok Non andava più Comandi Ok Ora guardiamo di Speriamo di riuscire a fare qualche kill Eh ragazzi Guardiamo un po' Con un 45 Merso wino Ma porca puttana Non c'è tempo di ammazzare qualcuno Che vincono sempre Iniziamo sempre Ma che capri Dai No ragazzi Dai ma che bug sono Sì Tutte le volte rientra un partitere Ci sono i miei amici Che Che sono in aria Ma Ok Ecco Non abbiamo incontrato Oh Bello ragazzi E si inizia con le kill Headshot Dai 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 Lo sapevo Lezzo Era lì Porca puttana Che culo di merda Che ha avuto l'un ligo Guarda Lezzo Ma Mi ha fatto Cà Mi ha fatto Proprio Cà No ma Ma stiamo Matti Mi ha fatto No ma Ok va bene Compriamo qualcos'altro Tipo Body armor Ok Abbiamo cambiato marpa Abbiamo cambiato marpa Per caso Buona solita Forse la solita Ma forse la solita va fuori Pistola Quattro Lezzo Zin 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 Ok Oh ma che sono da sola Vi Non vedo nessuno Oh Porca puttana Dai dai Dio che rincoglionimento Che avvi Dai cazzo Vai Mori Bello Bodo stile Ragazzi Sì eh Contate che Sono stato mezz'ora Per uccidermano col coltello Quindi Non è male Ok Deserticle Bene Bene Coltello Ok Andiamo un po' Come ce l'avevano con la Deserticle Ok Stiamo Volevo vedere un attimo Come sparava Ok Mers win Bene Non ho ucciso nessuno Però Da dove mi è saltato fuori L'MP5 Ah Meglio Meglio Non ho pagato nulla Meglio Meglio Ok C'abbiamo L'MP5 Deserticle E coltello Mi fa Deca Ok L'MP5 Non so come l'ho presa Comunque Bene L'ho preso gratis Bene Non l'ho nemmeno pagato Non so come l'ho preso Però Insomma No Ora Il verso che avete sentito È un mio canino Io ho un canino Che si chiama Luna È qui È qui È qui Bene È qui sotto la miseria Che si sta riposando Ok Rientro Dai 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 Ok Sto rientrando Ok Ok Questa mappa Non mi sembra La solità di prima Sinceramente Secondo me È cambiata Oh Assist Oh Cazzarola Merda Però Un assist L'ha fatta Però Forza puttana Non è facile Devo dire Ok Ecco Si è ripagato Come prima Di personaggi In aria No Ma Non si può Però Ah Ecco Come si faceva Oh La kappa La kappa 47 Ragazzi No Io amo Questa Ragazzi Io l'amo Ok Dai dai Andiamo un po' Con la kappa Forza Raga Andiamo Se con la kappa Va meglio Non mi guarda L'amore La kappa Non sto scherzando Ok Tutte le volte Sono in aria Quando devo rientrare In partita Sono in aria Non lo so Ok Oh Madonna Quanti nemici Quanti nemici Porca miseria Quanti nemici Quanti nemici Quanti nemici Accidenti Quanti nemici Ragazzi Quanti nemici Ok Allora Compriamo qualcosa Ah no L'ho perso Allora Guardiamo un po' Cosa posso Comprar Questa volta L'amore M4 A1 Anche se Devo dire È bello Accidenti Per essere un Free to play Ragazzi A me Mi piace Molto Perché Cioè Rispetto ad altri Free to play Che tipo Devi shoppa Così Questo Non mi pare Che devi shoppa Eh Ma forse Sto dicendo Favolando Perché Nel menu C'era scritto Shoppa Vabbè Comunque A me Lo shoppa Sullo shoppa Non sono tanto D'accordo Però Io non Infatti Non shoppo Nudo Piuttosto Un gioco A pagamento Che c'è Già le armi Subito Che non le devi shoppa Però Questo Mi sembra Buono Perché Ora Non so Se puoi shoppa Anche le armi Spero di Quando sei in partita Compri L'arma Con i punti Del gioco Poi Non so Se nel menu C'è anche Qualcos'altro Ok Compriamo Qualcos'altro Tipo la P90 Che è una Migra Diventa Molto forte Allora Devo dire Che molte armi Alcune armi Sono fatte bene Altre Un po' di meno Però insomma Per essere Un free to play Ecco Porca puttana Per essere un free to play Mi piace Sia graficamente Che non è male Via Sia graficamente Che Come gameplay Secondo me Per essere un free to play E carino A me mi piace Molto Ok Ora quando finirà La partita Ok Fa due minuti E qui E il 12 Ok Allora ragazzi Poi Un'altra Un altro cambiamento Del canale Che metterò Gli orari Finalmente Come mi avevate chiesto Metterò Gli orari Che vi lascerò Qui sotto In descrizione Così potrete vedere Quando Quando usciranno i video Oddio Devo dire Che gameplay Però Non sempre Usciranno Degli stessi giochi Quindi Qualche volta Cambierò Anche i giochi E a differenza Quanti Anche quanti like Prenderò Insomma Così Quelli che vi piacciono Più a voi Ok Questo qui Non lo conosco Proviamolo un po' Questo fucile Non lo conosco Ok Un raffida Sì Bello Assist Sembra tipo Un famas Ma non un famas Però Sempre Voi si un famas E perché Il contatore È ritornato A 3 minuti No Ok Ok By weapon Allora Sniper rifle Oh L'SVD Ragazzi Non Sniper Ok L'SVD Ok Cioè Volevo dire Sniper rifle Non l'ho mai comprato Su questo gioco Devo dire Che le armi Sono abbastanza Per essere un free to play Come vi ripeto Mi piace Sia graficamente Che come gameplay Soprattutto Anche come armi Ok Guardiamo un po' Guardiamo un po' I V-Rifles Eh Ok Sto in mitraglione Perché mi sarei Che su far Che su far Che c'è Mamma mia Però non è Uno dei più forti Mi pare Mi pare che sto Il primo Sono Ok Eh E son morto Subito Anche con l'Iv-Rifle Benissimo Bello Sto cettino Di capi Bello Non cazzo Assu Dio che qui scoop L'ha fatto Anche se no assist Ok Dai dai Bello Weapon Guardiamo un po' Assalto Ritorniamo su Proviamo la KS74U Un carino Ok Va bene Ah spero che non mi colpi Scandale a spalle Insomma Ok Eccolo Molì Bello Headshot Raga Era bello Questo Non potete dire Che non era bello Perché questo era bello No cazzo Merda Porca miseria War Corps Wind Ok ragazzi Direi che Questo video Può finire qua Spero che vi sia piaciuto Come sempre Datemi dei consigli Anche sui giochi Vabbè che Vabbè Insomma Ve li porterò io Alcuni Poi a seconda Mi piace Che prenderò Farò più video Su quello Su quest'altro Insomma Spero che Questo video Vi sia piaciuto Se volete Se volete scaricatelo Se volete scaricatelo anche voi Su steam Ci potremo anche incontrare Su steam Sinceramente Perché io ce lo si Cioè La prossima Vi lascio Vi lascio L'elenco Negli orari Qui sotto In descrizione Ciao ciao Ciao